Ciao a tutti ragazzi, questo è un video aggiornamento di cui volevo dire solo che il contest è annullato Non so se lo rimaneremo più avanti, ma vabbè L'abbiamo annullato il contest perché hanno partecipato solo InformaticTube Di cui lo ringraziamo per aver partecipato E gli lasciamo il link del suo canale qui sotto nella descrizione Per il prossimo contest partecipate in tanti, mi raccomando Ciao a tutti ragazzi